Allora grazie, grazie alla nostra Monica Moretti e ci spostiamo dalla Sicilia a Roma dove si terrà il tradizionale concerto per il primo maggio, come sempre in piazza San Giovanni. Sarà dunque una giornata di festa ma non è sottovalutata la sicurezza. Andiamo allora alla Caserma Gandin dove ci aggiorna in diretta la nostra inviata, la vedete Isabella Romano. Buongiorno Isabella. Sì, buongiorno a voi dalla Caserma Gandin dove c'è la sala operativa e il coordinamento dell'operazione Strade Sicure. Lo dicevate, giornata di festa questa ma giornata come sempre di impegno per le nostre forze armate, le forze dell'ordine che devono garantire la sicurezza del territorio. E questa mattina qui c'è il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi che farà un giro in tutti i monumenti, aree a rischio presidiate quotidianamente dalle nostre forze armate. Strade Sicure, un'operazione che ormai viene rinnovata dal 2008, un impegno del Governo. Sì, sicuramente mai è stato preso un impegno così forte perché in questo momento abbiamo 7.050 uomini nei punti sensibili individuati dalle varie prefetture sul territorio nazionale. Ed è evidente che un giro tra gli uomini il primo maggio sta a significare anche la vicinanza del Governo a chi il primo maggio non festeggia ma invece si impegna a maggior ragione affinché la festa dei lavoratori si possa svolgere con i maggiori margini di sicurezza possibili. 7.000 uomini sul territorio italiano, poi ci sono quelli che lavorano e portano alto il nome dell'Italia e garantiscono la sicurezza anche in altri paesi del mondo. Sì, ormai non siamo più ai tempi della guerra fredda e speriamo di non ritornarci, ma evidentemente in un mondo così globalizzato l'Italia come tanti altri paesi ha la necessità di portare pace e sicurezza in quei democrazia, nei paesi diciamo meno fortunati dai nostri. Abbiamo più di 4.000 uomini in giro per il mondo che cercano di portare quella pace che molte volte sembra facile da evocare ma difficile da ottenere e per cui dall'Afghanistan all'Iraq, al Libano, al Kosovo, ancora abbiamo contingenti italiani che cercano di riportare determinate situazioni di tranquillità, dove le situazioni di tranquillità significano solamente sviluppo sociale e sviluppo economico. Questo sviluppo sociale e economico che purtroppo anche in aree molto vicine all'Italia ancora manca. Senta, in questi giorni è aperto il dibattito, anche piuttosto vivace, sollevato dalle dichiarazioni del procuratore di Catania a Zuccaro su presunti legami tra trafficanti di uomini e organizzazioni non governative, quelle organizzazioni che salvano vite in mare. Da più parti viene ribadito come la questione da risolvere sia in Libia. Lì saranno intensificata la cooperazione? C'è stata già un'azione in questo senso da parte del governo? Il governo italiano è sicuramente uno dei principali artesifici degli ultimi tentativi fatti per normalizzare la situazione in Libia. Peraltro la situazione libica va vista non nel momento attuale, ma in un trend positivo di evoluzione che parte da una situazione assolutamente ingestibile di qualche anno fa, alla formazione del governo di Al-Serragi riconosciuto dall'ONU, all'inizio di relazioni internazionali con questo, ha la capacità italiana di portare anche in Italia determinate situazioni, tipo anche l'ultimo accordo fatto fra tribù relative ai confini del sud della Libia, perché poi bisogna ricordare che evidentemente i migranti sono un fenomeno che non nasce in Libia, ma nasce evidentemente molto più al sud. Quindi l'Italia è leader nel cercare di normalizzare la Libia all'interno anche di una situazione di carattere internazionale iniziale in cui l'Italia è riuscita a far riconoscere all'Europa che i borders marini, i confini marini italiani sono di fatto poi i confini europei. Ed ecco perché dall'operazione Mare Nostrum, prettamente italiana e di carattere umanitaria, si è passata all'operazione Sofia, che è un'operazione invece di carattere europeo e che attualmente ha vari compiti, tra cui sicuramente quello principale è proprio quello di struncare il traffico dei migranti. Grazie al sottosegretario alla difesa, Domenico Rossi, dalla Caserma Gandin di Roma. È tutto per il momento, a voi la linea. Grazie, grazie Isabella Romano, grazie a...